Le notizie arrivano dall'occupazione in Toscana, dai dati Istat sono aumentate, le occupazioni rispetto ad un anno fa di 30.000 unità e diminuisce anche la disoccupazione. Ci dice tutto Gaetano D'Arienzo. Il saldo è positivo, 30.000 nuovi posti di lavoro nel secondo trimestre 2015 per la Toscana. Sono il segnale che l'economia regionale tiene e che anzi cresce con i suoi posti occupazione, soprattutto tra i servizi e l'impresa. Diminuisce inoltre la disoccupazione, dall'11% di gennaio passerebbe all'8,5%, sotto soltanto ad altre due regioni, Veneto e Trentino. Dati Istat alla mano, il presidente della regione toscana può dunque esultare. Buone notizie, anche se da dare con il massimo della cautela, con sobrietà e senza dimenticarci che dietro a queste cifre permangono purtroppo tante realtà di sofferenza. Insomma i 180.000 disoccupati toscani sarebbero così scesi a 145.000, ma il dato più importante per il governatore è quello che misura il tasso di occupazione dei cittadini con più di 15 anni che lavorano. In Italia sono il 55%, in Toscana il 65%, prima regione in Italia assieme all'Emilia Romagna. Non si deve disperare, che non si può il pendolo farlo oscillare dalla disperazione in cui il PIL non cresce e allora tutti siamo a cercare un colpevole. Adesso all'entusiasmo, bisogna tenere una linea giusta. E alla domanda se pensa ad una candidatura in rappresentanza della sinistra democratica alla segreteria nazionale del PD, Rossi risponde così. Ma perché non?